Salve a tutti! Oggi siamo nel cuore di Bari, in una zona molto serrita e precisamente in via Garova, tra via Trevisani e via Manzoni. Proponiamo in vendita un bivani di 55 metri quadri, posto al primo piano. L'appartamento ha delle volte di 4,20 metri ed è soppalcato. Entrando troviamo un ingresso. Il corridoio ci accompagna in un soggiorno pranzo, con affaccio dal balcone su via Garova. Un cucinino con ripostiglio ed ancora un bagno padronale. E cosa dire del soppalco con camera da letto e bagno? Quest'ultimo offre all'immobile un tocco di particolarità. La scelta della pavimentazione in parquet dona calore e classe e i condizionatori come fonte di riscaldamento sono una soluzione moderna e pratica. Il fatto che l'immobile sia già redato è un grande vantaggio per chi cerca una soluzione pronta all'uso. Contattateci subito o visitate il nostro sito web www.rubinocase.com per altre fantastiche opportunità. Ciao, alla prossima!